di quel giorno vorrei poter cambiare molte cose se solo l'avessi capito occhio a sinistra potresti usare lo scuro no alla tua destra Grazie a tutti Lo stemma della famiglia Illy Una delle prime ad essere distrutte dalla guerra Il mio cerchietto è qui È su quel piedistallo vicino all'arco Prima eliminiamo queste creature Aoka 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 Finalmente Aoka 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 In arrivo da sopra Aoka Guarda qua Aoka 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 Aoka